Prima di presentare, chi sei tu? Alessandro Bitti E che stai facendo? Sto facendo Il Babbo Natale ci dà i regali, è proprio il Babbo Natale La letterina a chi? A Babbo Natale Metti bene quel cappello Metti bene il cappello Così? Ma è proprio su, ti lo offri tutta la testa Va bene, allora Voi chiede i regali sono per te oppure per un'amica tua? Un regalo per me Un regalo ai bambini piccoli? Vuoi che te lo comandavo A chi? A mio riziano che è piccolo E a Giota che è piccolo E le compro una pizza A Tata le compro un anello Voglio il Super Mario comandato E voglio il Super Mario comandato E voglio il Super Mario comandato Non male contro Le contro O ai cattini O ai cattini O ai cattini Le contro O O Il quadro della piscina Un giocattolo tuo da dare ai bambini poveri? Basta, basta Così basta A bambini poveri niente? Anche Niente Sua favore Ma ti fermare il naso? Che poi a Babbo Natale ti vede e ti metti il naso e non ti porta niente No, sì Ciao Ciao qui A Babbo Natale Ciao Babbo Natale Ciao Ciao